Settino di protesta di un nutrito gruppo di operai dell'indotto con striscioni e bandiere dei sindacati confederali CGL e Cislewil in piazza municipio a Gela. No agli ammortizzatori sociali per tre mesi, così come definito, giorni addietro al Ministero del Lavoro. Chiediamo certezze, non vogliamo, e le mosine hanno riferito gli operai. Non vogliamo noi assistenzialismo. Tutto quello che si è discusso a Roma, noi non siamo soddisfatti per questo. Ed ecco che ci siamo spostati perché c'era la necessità, vogliamo dare manforte affinché tutto venga completato e adempiuto per quelle promesse che sono state fatte dai tavoli di Roma. Vogliamo essere presenti, insomma. Dunque no agli ammortizzatori sociali. No agli ammortizzatori sociali, noi vogliamo il lavoro. È stato ribadito tantissime volte, noi siamo esperienti con gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali non durano per sempre e non soddisfano nemmeno i bisogni che ci sono nelle famiglie. Perché, ripeto, ho detto tante volte, c'è chi ha un mutuo, c'è chi non riesce a pagare la luce, c'è chi non riesce a pagare l'acqua, c'è chi ha una famiglia numerosa. Qui siamo famiglie a monoredito la maggior parte di noi e non riusciamo a sbarcare il lunario. Ci sentiamo abbandonati dalla politica, soprattutto dalla politica regionale e dal governo centrale, che tanto hanno promesso ma nulla hanno fatto ad oggi. Ma cosa potrebbe fare il comune di Gela per venirvi incontro? Io credo che il comune di Gela si stia adoperando per venirci incontro, però abbiamo una politica regionale assente. Il nostro presidente della regione assente completamente, per non dire il signor Renzi che proprio ci ha abbandonati, è venuto a Gela a farsi i selfie, però è servito solo a quello. La situazione sta diventando un po' critica, nel senso che più si continua a fare sciopero, più le famiglie si esasperano. Facendo sciopero non si percepisce neanche più lo stipendio, quindi qui è la politica che deve intervenire subito.